Una sera d'estate, il sole che si adagia sul mare, dandoci quei cinque minuti di pace col mondo. Un soffio di vento, un aperitivo sul porto. The Marine Stream di Francesca Bianchi è quei cinque minuti di tramonto sul mare che ti rimettono in pace con te stesso. È l'aperitivo al porto dopo un anno di lavoro in ufficio. È due passi in darsena con le onde del mare in sottofondo. L'ambra grigia, associata al muschio di quercia, evoca il sapore di un'ostrica. Questo profumo ti renderà il pirata più affascinante dei Caraibi. Al tuo passaggio tutti si chiederanno quale tesoro nascondi nella cambusa. Mamma mia che gli farei a sto marinaio. Per la benda di barba nera, questo sì che è un tesoro. Ayo, ciurma.